5 milioni per il museo del mare dopo le immancabili polemiche e il sospetto che i soldi potessero essere stati trasferiti su altri capitoli di spesa, ieri pomeriggio il vicepresidente della regione Gaetano Ormao e il deputato Ars Michele Mancuso hanno fatto un sopralluogo a Bosco Littorio dove dovrebbe sorgere il museo. Hanno ribadito che il finanziamento c'è e sono previsti almeno 5 milioni di euro. Vogliono tagliare fondi della rete fognaria Manfria? Lunedì l'associazione Viviamo Manfria depositerà le firme raccolte per denunciare il tentativo da parte della regione di tagliare anche gli stanziamenti destinati alla rete fognaria nella frazione balneare per un totale di poco superiore ai 3 milioni di euro secondo i rappresentanti dell'associazione il rischio è forte. Il comune annuncia tolleranza a zero ma i rifiuti restano da un lato l'amministrazione che annuncia ulteriore giro di vite contro chi sporca in città dall'altro gli incivili che invece continuano indisturbati a gettare l'immondizio ovunque. Ad oggi infatti nonostante un chiaro calendario della differenziata praticamente tutti i quartieri cittadini si trovano sommersi dai rifiuti. Con le nostre telecamere abbiamo provato a fare un giro a campione in tre punti rappresentativi della città che vanno dal centro alle periferie. I risultati sono molto eloquenti. Fiancheggiatori Rinzivillo, anche avvocato a processo, il gruppo del Tribunale di Caltanissetta ha rinviato a giudizio l'avvocato quarantenne Grazio Ferrara e il 62enne Emanuele Zuppardo. Sono accusati di essersi messi a disposizione del boss 60enne Salvatore Rinzivillo, attualmente ristretto al 41 bis. Per un terzo coinvolto gli atti sono stati trasmesse alla procura di Catania, competente per territorio. La gelese Alice Aldisio, vicecoordinatore provinciale di Gioventù Nazionale. Il movimento giovanile di Fratelli d'Italia continua a radicarsi nel territorio. Negli scorsi giorni è stato nominato il vicecoordinatore provinciale in provincia di Caltanissetta. Si tratta della giovane dottoressa Alice Aldisio, già militante del movimento giovanile e di Fratelli d'Italia. Il primo obiettivo, dice, sarà quello di far riappressionare i giovani alla politica. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dopo le immancabili polemiche e sospetto che i soldi potessero essere stati trasferiti su altri capitoli di spesa, ieri pomeriggio il vicepresidente della regione Gheta Norma e il deputato Ars Michele Mancuso hanno fatto un sopralluogo a Bosco Littorio dove dovrebbe sorgere il Museo del Mare. Hanno ribadito che il finanziamento c'è e sono previsti almeno 5 milioni di euro. Sentiamo. In tempo di finanziamenti che vengono e che vanno ora tocca al Museo del Mare, opera attesa da anni ma che è sembrata finire nel dimenticatoio regionale. Dopo le immancabili polemiche e il sospetto che i soldi potessero essere stati trasferiti su altri capitoli di spesa, nel pomeriggio di ieri il vicepresidente della regione Gheta Norma e il deputato Ars Michele Mancuso hanno fatto un sopralluogo a Bosco Littorio dove dovrebbe sorgere il Museo. Hanno ribadito che il finanziamento c'è e sono previsti almeno 5 milioni di euro. Insieme a loro c'era il direttore Luigi Gattuso. Nel dicembre di un anno fa il presidente Nello Musumeci aveva preannunciato tempi brevi per l'avvio dei lavori. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola solo qualche settimana fa non aveva potuto far altro che constatare la totale assenza di un qualsiasi cantiere. Le forze di governo alla regione si sono presentate con i calibri da 90 in città. Ora però bisognerà far partire i lavori e collocare la nave arcaica. Oggi è stata un'occasione per visitare appunto Bosco Littorio che è una struttura assolutamente abbandonata dove però c'è un progetto importante e di grande respiro. Proprio in questi giorni si è lavorato tra l'assessorato ai beni culturali e l'assessorato al bilancio per recuperare i 5 milioni e passa che interessano il primo lotto che andrà subito a decreto di finanziamento. L'assessore Armao ci ha appena comunicato De Visu che già lunedì si farà il decreto. Questa è una grande opportunità per la città di Gela ed è un polmone importante oltre che di verde anche di cultura, di rilancio della storia di questa meravigliosa città. La cronaca. Ieri un giovane è stato trasferito in ospedale, è rimasto ferito a causa di un violento impatto tra lo scooter e un'auto in sosta su lungomare. Anche la vettura ha riportato diversi danni. Dai primi rilievi effettuati dalla municipale sembrerebbe che l'incidente possa essere stato causato da un'altra vettura in transito che però si sarebbe allontanata. L'impatto è avvenuto nella zona dei Lidi. Vogliono tagliare i fondi della rete fognaria Manfria. Lunedì l'associazione Viviamo Manfria depositerà le firme raccolte per denunciare il tentativo da parte della regione di tagliare gli stanziamenti destinati alla rete fognaria nella frazione balneare per un totale di poco superiore ai 3 milioni di euro. Secondo i rappresentanti dell'associazione il rischio è forte. Sentiamo. Con i tagli che la regione sta imponendo a finanziamenti destinati ad importanti progetti in città ora la preoccupazione si fa sempre più concreta anche per i soldi della rete fognaria di Manfria. Circa 3 milioni di euro che secondo l'associazione Viviamo Manfria sono a forte rischio. Da alcune settimane è nata una raccolta firme che verranno poi depositate lunedì in procura. gli esponenti dell'associazione considerano del tutto illegittimo l'eventuale definanziamento. Ieri il presidente dell'Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti ratificando la convenzione che porterà ad assorbire tutte le funzioni del lato CL6 ha spiegato che si punta ad ottenere circa 60 milioni di euro di finanziamenti destinati alla rete idrica e a sistemi di depurazione. Antonio Cuvato presidente di Viviamo Manfria riferendosi ai possibili tagli dei finanziamenti destinati alla frazione balneare spiega che è lo stesso dipartimento regionale Acque che dal 2019 impedisce al RUP gelese di convocare una conferenza di servizi utile a validare i due progetti per il depuratore e la rete fognaria per un totale di 5 milioni di euro. Secondo Cuvato questo modo di derubare la città è scandaloso e criminale. Anche nel fine settimana proseguirà la raccolta firme prima del deposito in procura. Secondo l'associazione Viviamo Manfria serve a far sentire la voce dei gelesi ad informare la regione, il ministero dell'ambiente, il commissario straordinario per la depurazione e la commissione europea. Secondo Cuvato si tratta di fondi pubblici che vengono tolti ad una città che ogni giorno viene condannata a non crescere. Il comune annuncia tolleranza zero ma i rifiuti restano. Da un lato l'amministrazione annuncia un ulteriore giro di vite contro chi sporca la città, dall'altro gli incivili che invece continuano indisturbati a gettare immondizio ovunque. Ad oggi nonostante un chiaro calendario della differenziata praticamente tutti i quartieri cittadini si trovano sommersi dai rifiuti. Con le nostre telecamere abbiamo provato a fare un giro campione in tre punti rappresentativi della città che vanno dal centro alla periferia. Le immagini sono eloquenti. Sentiamo. Mentre il comune continua ad annunciare la linea della tolleranza zero per disciplinare la raccolta dei rifiuti e secondo le fonti del comando della polizia municipale le sanzioni ai trasgressori continuano ad essere erogate, la situazione odierna della città racconta tutta un'altra storia. Ad oggi infatti nonostante un chiaro calendario della differenziata praticamente tutti i quartieri cittadini si trovano sommersi di rifiuti anche a causa di una minoranza di cittadini che si ostina a non differenziare e a non rispettare le regole. Se a questo si aggiunge anche il grave problema tecnico verificatosi nella scorsa settimana ma ricorrente già da mesi dovuto alla carenza di impianti di compostaggio cui conferire il rifiuto organico raccolto col sistema porta a porta appare chiaro come non possa essere più possibile tollerare le cattive abitudini di chi abbandona i rifiuti ovviamente non differenziati in modo indiscriminato. Con le nostre telecamere abbiamo provato a fare un giro a campione in tre punti rappresentativi della città che vanno dal centro alle periferie. I risultati sono molto eloquenti. Siamo in via senatore da maggio il cuore del centro storico e questo cartello dal colore inequivocabile che indica le attrattive turistiche rappresenta appunto il monastero e le sue le benedettine di clausura l'ex ospedale civile di Gela ma anziché essere un luogo turistico guardate in che condizioni invece si trovano proprio le mura del monastero delle ex benedettine sommerse dai rifiuti. In centro storico sono diverse le micro discariche sparse per i viottoli alle spalle di Corso Vittorio Emanuele dalla via Giacomo Navarra Bresmes a via Cairoli proprio a pochi passi da Palazzo di Città. Sacchetti di immondizia fanno bella mostra di sé senza che nessuno intervenga. Non va meglio spostandosi più a ovest verso il quartiere Caposoprano. Il nostro tour continua a Caposoprano da molti considerato uno dei quartieri in della città eppure questa è la situazione che si trova proprio in via Parioli. Guardate che cosa si trova accatassato qui sul muro ma proseguendo possiamo ancora andare avanti lungo il marciapiede e ci inoltriamo lungo il marciapiede. Plastica, sacchetti di spazzatura, cartone, rifiuti di ogni tipo e soprattutto se guardate la linea del marciapiede è completamente ricoperta da erbacce. Per una curiosa coincidenza poi le erbacce sono state rimosse solo lungo una parte della carreggiata, quella più a est mentre quella a ovest rimane invasa da erba e rifiuti. Le cataste di immondizia all'ingresso della via poi, secondo i residenti, sarebbero lì da quasi due settimane nonostante il passaggio degli operatori Tecra sia quotidiano. Il nostro giro si conclude poi alla periferia nord-ovest della città nel quartiere Marchitello dove a pochi passi da una scuola troviamo questo scenario. Qui invece siamo alla periferia nord-ovest della città, questa è via Sicani. Alle mie spalle vedete l'istituto professionale e poco più in là i palazzetti dello sport. Proprio oltre questa recinzione inizia il mercato settimanale e questi che vedete alle mie spalle sono i rifiuti, la plastica e altro tipo di rifiuti che vengono portati qui dall'avvento, vengono gettati appositamente al termine del mercato settimanale. Rifiuti che si trovano lungo tutta la strada. Uno scenario oggi reso ancora più lunare dal solito incivile che ha pensato bene di far pulizia da sé dando fuoco alla plastica e alle sterpaglie, spargendo in giro fumi tossici e con il serio rischio di dar seguito a un incendio incontrollato. Per evitare tutto questo prova a scendere in campo direttamente la dirigente del settore ambiente e decorurbano Grazia Cosentino che giorni fa ha invitato la Tecra e la polizia municipale ad operare in sinergia, ognuno con le proprie competenze affinché il calendario di esposizione delle frazioni merceologiche sia rigorosamente osservato dai cittadini. La Tecra provvederà alla raccolta solo di quanto previsto dal calendario e i sacchi non conformi saranno etichettati da apposito adesivo con la dicitura non conforme e non ritirati. Il martedì si raccoglierà solo il secco residuale, cioè privo di organico, carta, plastica, vetro e metalli. Per i cumuli si vedrà e con l'estate che avanza le prospettive non sembrano certo delle migliori. E lo ha spiegato più volte anche il sindaco Lucio Greco, la città è sporca e il servizio rifiuti non riesce a soddisfare le attese dell'amministrazione comunale. Sono tante le zone della città che necessiterebbero di interventi capillari, anche in centro storico vengono segnalate situazioni di forte precarietà, rifiuti abbandonati in strada, addirittura anche i resti di animali morti si trovano tra le vie della zona. In via Battesimo ci si imbatte i rifiuti di ogni tipo abbandonati lungo la strada, non mancano escrementi e scarti. Spesso anche l'incuria dei cittadini è un peso notevole nel rendere ancora più critica la situazione. I residenti e chi quotidianamente opera nella zona denunciano comunque l'assenza di un servizio efficiente. Passiamo alla cronaca giudiziaria, fiancheggiatori Rinzivillo, anche un avvocato a processo. Il gruppo del Tribunale di Caltanissetta ha rinviato a giudizio l'avvocato Quarantenne Grazio Ferrara e il 62enne Emanuele Zuppardo. Sono accusati di essersi messi a disposizione del boss Rinzivillo, attualmente ristretto al 41 bis. Per un terzo coinvolto gli atti sono stati trasmessi alla procura di Catania, competente per territorio. Sentiamo. Vanno a processo perché accusati di essere presunti fiancheggiatori della boss 60enne Salvatore Rinzivillo. Il gruppo del Tribunale di Caltanissetta ha disposto il giudizio per l'avvocato Quarantenne Grazio Ferrara e per il 62enne Emanuele Zuppardo. Verranno invece trasmessi ai PM della procura di Catania gli atti che riguardano il 56enne Carmelo Collodoro. Nel suo caso è stata accolta l'eccezione preliminare avanzata dal legale. L'avvocato Francesco Enia è accusato di aver violato la misura di sorveglianza allontanandosi dalla città per partecipare a presunti incontri con pregiudicati ritenuti vicini alle famiglie di mafia. Dovranno essere i PM Etnei a valutare le carte visto che è stata confermata l'incompetenza per territorio di quelli nisseni. Le difese di Ferrara e Zuppardo invece non hanno optato per riti alternativi. Due imputati il prossimo novembre dovranno rispondere alle pesanti accuse davanti al collegio penale del Tribunale di Gela. L'avvocato Ferrara rappresentato dal legale Giacomo Ventura si è sempre detto estraneo a vicende di criminalità organizzata. Gli unici contatti anche in carcere con Rinzivillo li avrebbe avuti solo per ragioni di carattere strettamente professionale avendone assunto la difesa. Gli investigatori che già seguivano il filone principale dell'inchiesta ribattezzato extra fines hanno però ritenuto che fungesse da tramite fra il boss e gli affiliati rimasti liberi. Sono stati analizzati i video delle visite in carcere e gli spostamenti di Ferrara. Il legale che rappresenta il professionista ha ritenuto di poter rispondere direttamente in dibattimento alle contestazioni mosse dai PM della DDA. A processo va anche Zuppardo difeso dall'avvocato Roberto Afeltra. Per gli inquirenti sarebbe stato un altro uomo di fiducia a disposizione di Rinzivillo e avrebbe partecipato a riunioni con altri affiliati e possibili nuove leve del gruppo locale che si rifarebbe alla famiglia di mafia adesso condotta dal sessantenne Salvatore Rinzivillo a sua volta arrestato. Al termine dell'inchiesta madre extra fines è già condannato anche se non in via definitiva. Si afferrara che Zuppardo negli scorsi mesi hanno ottenuto misure diverse dalla detenzione in carcere. Dall'indagine sono invece usciti Benedetto Rinzivillo e l'esercente licatese Giuseppe Incorvaia. Non sarebbero stati individuati elementi tali per ritenere che effettivamente avessero messo a disposizione del presunto capo fondi legati alle loro attività commerciali. I giudici del riesame lo scorso anno avevano accolto in pieno i ricorsi delle difese annullando le ordinanze di custodia cautelare come chiesto dai difensori, gli avvocati Giacomo Ventura, Giuseppe Donegani ed Emanuele Baganuco. Continuano i controlli antidroga in città. Due giorni fa i carabinieri hanno effettuato perquisizione e sono arrivati nell'abitazione di un giovane con precedenti legati proprio alla droga. Diversi militari sono entrati nell'appartamento alla ricerca di sostanze stupefacenti. Sono stati scoperti solo pochi grammi di marijuana, alcuni semi. Mi pare che il giovane abbia fornito anche il documento d'acquisto li avrebbe regolarmente ricevuti da un venditore online. Dopo i controlli è stato fermato e portato alla caserma del reparto territoriale di Via Venezia. Dopo qualche ora davanti ad esiti dei controlli che non hanno condotto a sequestri di rilievo, il giovane è stato rimesso in libertà. Ad alcune settimane i militari hanno intensificato le attività di contrasto al mercato locale della droga che non conosce particolari momenti di crisi con una domanda sempre costante. Nel caso del giovane che si pensa potesse avere a disposizione quantitativi maggiori, i militari sarebbero intervenuti probabilmente dopo una segnalazione. Gli accertamenti hanno dato esito differente. La gelese Alice Aldisio, vice coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale. Il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia continua a radicarsi nel territorio. Negli scorsi giorni è stato nominato il vice coordinatore provinciale in provincia di Caltanissetta. Si tratta della dottoressa Alice Aldisio, già militante nel Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia. Il primo obiettivo, dice, sarà quello di far riappassionare i giovani alla politica. Sentiamo. Linea verde attivata per Fratelli d'Italia che, seguendo quanto sta accadendo su tutto il territorio nazionale, riparte dai movimenti giovanili per strutturare la futura classe dirigente del partito. Anche in città, intanto, sbarca Gioventù Nazionale, il Movimento Giovanile del partito fondato da Giorgia Meloni, che proprio in questi giorni ha eletto i suoi organismi nei territori. E Gelese è anche il neo vice coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale. Si tratta della giovane dottoressa Alice Aldisio, già militante del Movimento Giovanile e di Fratelli d'Italia. La Aldisio punta sin da subito a un obiettivo ambizioso, far tornare ai giovani la passione per la politica. L'obiettivo è riuscire a far ritornare una politica giovanile attiva, perché mi rendo conto che qua a Gela i giovani sono disillusi, delusi dalla politica. Il nostro obiettivo è attraverso l'impegno sociale, l'associazionismo, far ricredere di nuovo in una sana politica, affinché i giovani si possano di nuovo appassionare, cercando di migliorare il loro presente e naturalmente garantirsi un buon futuro. Ci sono stati già i primi incontri con il gruppo, circa una ventina di ragazzi. Da dove partirete esattamente? Ma a noi il nostro impegno è creare dei flash mob, delle iniziative sociali, affinché appunto i giovani si sentono di nuovo parte integrante della città, perché mi rendo conto che molti ragazzi adesso non sanno dove andare, cosa fare. Quindi noi il nostro impegno è far appassionare di nuovo questi ragazzi affinché possano veramente imbegnarsi per cambiare la loro città e non solo magari lamentarsi che le cose non vanno bene. Qual è la visione che giovani come te hanno della attuale politica, sia a livello locale che a livello nazionale? Ma a livello locale siamo un po' disillusi, molto stanchi di fasse promesse, di politici che millantano di essere vicini ai giovani, quando invece non è così. Invece il nostro obiettivo, appunto come dicevo Pocanzi, è cercare invece di cambiare queste cose e far cambiare proprio da noi. A livello nazionale, ma io essendo in gioventù nazionale e quindi in Fratelli d'Italia credo molto in Giorgia Meloni, al cambiamento, al potere femminile e a un futuro veramente che sia più rosio per tutti. L'hai detto poco fa tu, i giovani sono disillusi dalla politica, si allontanano dalla politica, è difficile parlare ai giovani di politica. Come si riavvicinano i giovani alla politica? Parlando di politica giovanile, non cercando di dire che noi vogliamo cambiare Gela, cercare il porto, cambiare qualcosa che non competa a noi, non alla politica giovanile. Cercare invece di creare quei gruppi affinché di nuovo ci sia cultura, sport, associazionismo e che i ragazzi possono veramente far qualcosa per cambiare. Io ad esempio vedo molti muri imbrattati e non curati. Ci sono molti artisti invece che avrebbero una felicità immensa per poter abbellire la nostra città. E' Salvatore Scognamiglio, il nuovo presidente della Croce Azzurra, associazione accreditata presso l'ASPO di Caltanissette. È stato eletto durante l'Assemblea dei Soci, chiamato a rinnovare il direttivo e l'organigramma. Entra a far parte dell'organigramma anche Carlo Varchi, nominato direttore sanitario. I 35 componenti dell'Assemblea Generale hanno voluto confermare altre cariche direttive che si compongono di Giampaolo Di Benedetto, coordinatore volontari, Maria Grazia Di Benedetto, responsabile amministrativo, Antonino Eterno, direttore amministrativo, Linda Nicastro, vicepresidente e appunto Carlo Varchi, direttore sanitario, specializzato anche in managgiamento e direzione sanitaria e che durante la pandemia da Covid-19 ha avviato un servizio di teleassistenza gratuito offrendo supporto psicologico ai cittadini. Rifiuti acqua, Piero Bonno è pronto a visitare la città. Ieri il sindaco Lucio Greco a Catania ha avuto un lungo confronto con l'assessore regionale all'energia Alberto Piero Bonno. Sono stati toccati diversi punti delicati dalla vicenda idrica al servizio rifiuti nel limbo di una gara non ancora assegnata. L'assessore centrista della giunta Musumeci ha preannunciato una visita in città. Sentiamo. I definanziamenti contestati da buona parte delle forze politiche locali ma praticamente negati a Palermo continuano a far discutere. Il sindaco Lucio Greco però sembra non voler rinunciare all'asse con la regione fornito anche dall'Udc. Ieri nel primo pomeriggio Greco ha incontrato l'assessore regionale all'energia Alberto Piero Bonno dalla vicenda idrica alla questione rifiuti. L'esponente del governo Musumeci ha aperto all'amministrazione comunale. È probabile che la prossima settimana possa fare una visita in città insieme alla dirigente generale Calo Gerofoti, a sua volta presente al vertice organizzato a Catania a margine della tre giorni Ecomed. Sul territorio si punta molto allo sviluppo dell'impiantistica del ciclo rifiuti in attesa che venga consegnata la nuova vasca della discarica Timpazzo. Piero Bonn pare abbia confermato il buon esito dell'iter per il centro comunale di raccolta. Il progetto presentato dall'ex assessore Grazia Robilatte e dai tecnici dell'assessorato ambiente del municipio ha superato la prima fase di valutazione. Greco e la Giunta stanno continuando a seguire la procedura per arrivare ad un impianto di compostaggio comunale. Uno dei tanti punti risolti rimane però quello del servizio idrico mentre Greco e Piero Bonn si incontravano a Catania nella sede nissena del libero consorzio il presidente Ati Massimiliano Conti ha annunciato la firma della convenzione con lato per il definitivo passaggio delle funzioni. Il servizio in città segna il passo e probabilmente Piero Bonn vuole verificare anche questo aspetto nonostante una crisi idrica che è costante da anni a suon di bollette decisamente salate. All'incontro hanno preso parte referenti locali dell'Udc, il consigliere comunale Salvatore Incardona ma anche l'assessore Danilo Giordano e il coordinatore provinciale Silvio Scichilone. Non mancavano il dirigente comunale Grazia Cosentino e il consulente di Greco, l'ingegnere Pietro Inferrera. Piero Bonn ha preso nota in attesa che qualcosa si sblocchi al di là della continua emergenza. Omaggio a Rosa Balestrieri, la rassegna promossa dall'associazione Amici della Musica convinto anche per la suggestiva location. Il maestro Crucifisso Ragona è riuscito ad esaltare il piazzale all'interno del plesso della Santa Maria di Gesù, sede naturale della stagione estiva musicale. Sentiamo. Le mura ferediciane, l'edificio di epoca fascista del plesso Santa Maria di Gesù nel salotto della città si sono rivelati palcoscenico ideale per ospitare i concerti della stagione estiva della musica colta, rassegna voluta dal maestro Crucifisso Ragona. Ieri sera ad animare il suggestivo angolo della città è stato il duo musicale Strania, composto dalla cantante e chitarrista Enza Strazzulla e dal chitarrista Gianni Nicosia, sulle note dei brani di Rosa Balestrieri. Un nome è quello dell'artista ricatese, capace di richiamare un pubblico esigente e rispettoso ai versi di denuncia per un riscatto della Sicilia. Mafia e barrina che si stringono la mano, è solo uno dei brani simbolo inseriti nella scaletta musicale. La sede del plesso scolastico, inserito a confine delle storiche mure vicinte della città vecchia, si è rivelata ideale per ospitare il pubblico che ha assistito composto tra le poltrone, nel rispetto e distanziamento imposto per la gestione della pandemia da Covid-19, diventando involontariamente parte della suggestiva scenografia, resa accattivante anche dai fari di luce naturale. A vigilare sul buon esito del concerto è stato l'organizzatore della rassegna della musica colta, il maestro Crucifisso Ragona. Domani si replica con la musica lirica, in scena la soprano Angela Curale e il tenore Francesco Cusumano, in quartetto con il violinista Antonio Capizzi e Giovanni Raddino al pianoforte. L'ingresso è gratuito. E tutto il nostro telegiornale termina qui per tutti gli altri approfondimenti, vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it, grazie per averci seguito. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS